Meningite a 19 anni. Il caso è stato segnalato ieri in serata dalla rianimazione dell'azienda ospedaliera al servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 6 e Uganea. La ragazza aveva accusato i primi sintomi martedì nel pomeriggio ricoverata d'urgenza al reparto malattie infettive. La diagnosi è arrivata in serata. Si tratta di un caso isolato di meningite da meningococco il cui ceppo è in via di definizione, ma la terapia non cambia antibiotico e profilassi d'urgenza per amici e familiari. La ragazza, molto attiva nel settore del volontariato e nello sport, è entrata in pronto soccorso con sintomi già evidenti. Ora è in rianimazione. In giornata sono state rintracciate tutte le persone che possono essere state a contatto con la giovane, oltre ai familiari, anche i compagni di classe e le compagne di pallavolo della squadra in cui la giovane gioca, i ragazzi e gli animatori che frequenta. Il sindaco di Montegrotto ha già rilasciato le prime dichiarazioni sottolineando che il comune non è a rischio epidemia e che si tratta di un caso isolato e la ragazza probabilmente è una portatrice sana. Al momento non è ancora dato sapere se la 19enne fosse o meno vaccinata, ma dal servizio Igiene e Salute Pubblica fanno sapere che nonostante il ceppo potrà essere identificato solo in serata, si tratta di una meningite da meningococco prevenibile soltanto con la vaccinazione. Gli ultimi due casi di meningite erano stati riscontrati ad aprile in due bambini di 11 e 13 anni trasferiti a Padova da San Donato. Grazie a tutti.